Ciao a tutti ragazzi, vi sto annunciando che no, non sono morta. Il motivo per cui non faccio video è perché mi sto concentrando sulla sigla della serie Miraculous. Ho chiesto ad alcuni miei familiari di partecipare e lo hanno fatto. Ma io dico ragazzi, solamente due di voi hanno partecipato al provino. Tutti il resto sono dei miei familiari, cioè non proprio perché ci sono anche dei miei amici, ma vabbè. Questa immagine è uno spoiler della serie. Io vi sto dicendo che per ora non sto pubblicando perché mi sto concentrando qui, come vedete. Ma vedo che io nella sigla non la posso neanche completare, visto che ho pochi personaggi per completare tutta la sigla. Per avere tutti i provini, tutti i occhi, nel senso ragazzi, please partecipate. Cioè, è rimasto tipo Gatami, Chloe, poi il, che ne so, il sindaco, la guardia del corpo di Adrian, nel senso. Tantissimi, mancano tantissimi, mancano tantissimi personaggi, raga. Non so, io vi do alcuni giorni, casomai, cioè, non so, posso crearli io. Inventerò io, nel senso, solamente due di voi, allora saranno nella serie, avranno il piacere. Tipo, ah, guarda, quella sono io, vabbè. Questi sono dettagli perché io ogni volta faccio così quando partecipo a un provino, ma... Dettagli? Io sto soltanto dicendo quello che è vero, secondo me. Sto dicendo il mio parere, ragazzi. Perché io sto lavorando tanto a questa serie, però voi, vi prego, non deludetemi. Da mesi che ho aperto questi provini e alcuni di voi hanno scritto partecipo, ma non tutti hanno davvero partecipato. Anche se... E in più, quelli che hanno scritto partecipo erano anche pochi. Perciò, ragazzi, ditemi voi, non so, io ci sto lavorando in questa sigla, in questa serie. Voglio soddisfarvi, ecco. Pure perché è una cosa che a me piace, sinceramente. Io mi drogo di Miraculous. E... E vorrei dare anche l'opportunità alle Gaciatuber, che non lo conoscono, di vedere il mio video e capire cos'è Miraculous. Anche se su Gaccia, farò anche degli episodi. Ad esempio, il primo episodio sarà come il primo episodio di Miraculous, realmente, in televisione, ecco. E niente, ragazzi, ditemi voi. Io ci sto lavorando tanto, un bel po', in questo specie di progetto. Collaborate, vi prego. Perché per ora io video non ne farò finché non completerò almeno la sigla. Ragazzi, ve lo dico. Questo era il mio avviso, che per me è importante, perché io ci sto lavorando e... Insomma, vorrei anche il vostro contributo, nel senso, come si dice, non lo so. Vorrei anche la vostra partecipazione, ecco, nel senso, questo video avviso finisce qui. Spero parteciperete dopo questo video, anche se ne dubito. Perché questo già è il secondo video in cui vi dico di partecipare. Dopo ciò, non vi avviserò più, ragazzi, perché non voglio neanche assillarvi. Voglio solamente... Volevo solamente chiarire questa situazione. Che dire, ciao!